Buongiorno da Edo, anche oggi prima delle news voglio approfittare di questa intro per ricordare e celebrare un personaggio della storia dell'informatica che purtroppo ci ha lasciato qualche giorno fa e sto parlando di Larry Finger che è un nome che forse non conoscete però probabilmente se siete stati utenti Linux soprattutto nella prima parte degli anni 2000 avete messo le mani sul suo codice, peraltro il suo codice è ancora nell'ultima release del kernel Linux perché è uno che ha contribuito spesso al kernel, ma cosa ha fatto in particolare Larry Finger? Beh, tra le tante cose la più notevole è stata quella di portare il driver dei dispositivi wireless Broadcom e Realtek sul kernel Linux facendo un'opera di reverse engineering dei driver stessi che le aziende non rilasciavano naturalmente come open source Ricordo la sofferenza di dover far funzionare il wireless sui laptop con Linux in quegli anni e praticamente l'unico modo che avevi alla fine della fiera era usare Andy Swrapper vi sblocco questo ricordo Andy Swrapper era quel tool che vi permetteva di utilizzare e di caricare driver Windows però su Linux un tool magico che nessuno ha mai capito come fosse possibile che funzionasse ma in realtà funzionava però diciamo che non era sempre al 100% fino che appunto è arrivato Larry Finger e ci ha donato tramite il suo reverse engineering questi driver che poi sono stati inclusi nel kernel tra l'altro lui non era neanche un'informatica lui si occupava di mineralogia, di cristallografia c'è un minerale che si chiama fingerite proprio in suo onore insomma lui ha messo le mani sui computer è iniziato a programmare in Fortran negli anni 60 perché gli serviva per supportare il suo lavoro poi si è appassionato e ha iniziato a mettere sempre più le mani sui sistemi Unix prima e Linux poi poi è andato in pensione nel 99 e da lì ha continuato ma stiamo parlando di 20 anni fa quindi aveva più di 60 anni e ha continuato a scrivere driver portandoci appunto Broadcom e Realtek Open Source reverse engineered sul kernel e tra l'altro se guardate il suo profilo GitHub probabilmente vedrete che nell'ultimo anno aveva più contributi lui di quanti ne avrete avuti voi e lui aveva 84 anni quindi abbastanza impressionante quindi insomma con grande gratitudine e anche un po' di tristezza perché naturalmente ci ha lasciati anzi mi sembra anche corretto farvelo vedere eccolo qua Larry Finger, grande contributor, grande appassionato di open source, grande appassionato di Linux che ci ha donato con il suo lavoro e la sua passione almeno lo 0,5% pare del totale dei commit sul kernel Linux quindi grazie Larry Finger e adesso vi devo dare notizie, un paio di notizie secondo me interessanti partiamo con Giuliano Assange quindi ci sono aggiornamenti anche su questa cosa andiamo subitissimo Allora lo dico subito anche per riassumere la notizia Giuliano Assange è un uomo libero o meglio lo sarà subito dopo essere comparso di fronte a una corte degli Stati Uniti con cui ha raggiunto un paddeggiamento un accordo con cui lui si dichiara colpevole di un'accusa e loro lo lasciano libero avendo già scontato la pena nel carcere di massimo sicurezza dove è stato detenuto fino adesso nel Regno Unito e questo lo sappiamo da una lettera tra il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e il giudice distrettuale Ramona Manglona delle Isole Marianne Settentrionali che ha detto che Assange apparirà proprio in quella corte alle 9 di mattina quindi questa sera in Italia per dichiararsi colpevole e che il Dipartimento di Giustizia si aspetta che Assange ritornerà in Australia che è il paese dove ha la residenza dopo questo procedimento tra l'altro se vi stavate chiedendo dove diavolo sono le Isole Marianne Settentrionali eccole qua sono un isolotto nel Pacifico molto più vicino al Giappone e all'Australia che non agli Stati Uniti eccole qua un isolotto minuscolo con qualche città l'aeroporto internazionale e se volete andarci in villeggiatura sapete che le attrazioni turistiche principali sono De Grotto De Grotto che è una grotta sul mare e lo scoglio dei suicidi allora Assange comparirà davanti alla corte e verrà condannato a 62 mesi di carcere ma siccome li ha già scontati appunto nel carcere britannico questo significa che ritornerà libero e potrà tornare in Australia dice Adrian Watson portavoce del Consiglio Nazionale della Sicurezza che questa è stata una decisione indipendente presa dal Dipartimento di Giustizia e non c'è stato nessun coinvolgimento della Casa Bianca vedete qui i tweet di Wikileaks che parte con Julian Assange is free tweetato stanotte a lunedì 50 e poi prosegue dicendo proprio che dopo 1901 giorni spesi nel carcere di massima sicurezza di Belmarsh appunto nel Regno Unito ora è uscito, ha preso un aereo e si appunto verrà portato a Saipan che tra l'altro sono isole marianne che è territorio statunitense ma non proprio è un po' strana la cosa se volete informarvi meglio però di fatto quel processo, quell'audizione sarà valida per il processo degli Stati Uniti e poi lui potrà tornassene in Australia peraltro non abbiamo ulteriori notizie su come questo accordo sia stato raggiunto sappiamo solo che erano un po' di giorni che ci stavano lavorando c'è un video apparentemente che circola da lunedì dal 19 giugno cioè datato 19 giugno in cui si vedono Stella Assange che è la moglie di Julian Assange che dice che si aspetta il suo rilascio entro una settimana si vede anche Christine Hanson che è editor in chief di Wikileaks che si aspetta l'imminente rilascio di Assange questa notizia naturalmente ha avuto risalto internazionale anche in Italia su media non informatici se ne parla perché Assange è un personaggio non informatico è proprio un personaggio pubblico a tutti gli effetti e il post ha questo articolo che si intitola c'è un accordo per la liberazione di Julian Assange in cui si fa tutto il riassunto della vicenda vi leggo alcune cose Assange è accusato negli Stati Uniti di varie capi d'accusa in violazione dell'Espionage Act una legge contro lo spionaggio ma l'accordo comunicato lunedì prevede che si dichiari colpevole per un solo capo d'accusa Assange fondò Wikileaks nel 2006 come sito internet, ONG e giornale online che aveva lo scopo principale di pubblicare documenti segreti e riservati condivisi da fonte anonime la piattaforma diventò nota a partire dal 2010 quando pubblicò Collateral Murder un video segreto dell'esercito americano mai visto prima di allora che mostrava un attacco con elicottero compiuto dagli Stati Uniti contro due giornalisti scambiati per jihadisti nel 2007 a Baghdad durante la guerra in Iraq Wikileaks mantenne anonima la fonte del video ma l'esercito americano la individuò in Chelsea Manning che allora faceva parte dell'esercito americano era in servizio in Iraq e lavorava come analista di intelligence si scoprì che Manning aveva consegnato a Wikileaks centinaia di migliaia di documenti video e altro materiale segreto spinta dall'idea che le guerre americane e Medio Oriente fossero ingiuste e che l'assoluta trasparenza promossa da Assange avrebbe migliorato il mondo Manning fu arrestata ma i suoi documenti continuarono a essere pubblicati da Wikileaks in alcuni casi in collaborazione con grandi giornali internazionali qua per esempio ricorderete l'inchiesta del Guardian eccetera proseguo la lettura Wikileaks fece poi partire il cosiddetto Cablegate un'altra pubblicazione di massa di documenti segreti proveniente ancora dal database di Manning questa volta i segreti non erano militari ma diplomatici Wikileaks pubblicò centinaia di migliaia di cablo statunitensi cioè le comunicazioni diplomatiche che ambasciate e consolate americani nel mondo scambiano tra loro e con il Dipartimento di Stato cioè il Ministero degli Esteri nel 2016 nel pieno della campagna elettorale degli Stati Uniti tra Hillary Clinton e Donald Trump Wikileaks cominciò a pubblicare email e comunicazioni private dello staff del Partito Democratico che ottenne grazie alla collaborazione con hacker di Stato russi quelle mail non contenevano particolari scandali ma danneggiarono comunque l'immagine di Hillary Clinton in un momento importante della campagna elettorale nel frattempo Assange era in corso in altri problemi legali nel 2010 mentre si trovava nel Regno Unito fu accusato di stupro e molestie da due donne svedesi la Svezia chiese l'estradizione e Assange venne temporaneamente messo in libertà vigilata ma la violò per rifugiarsi nell'ambasciata Londra dell'Ecuador l'indagine per stupro fu archiviata definitivamente nel 2019 Assange fu espulso dall'ambasciata dell'Ecuador nello stesso anno e fu arrestato dalla polizia britannica però c'è un altro articolo sul post di qualche settimana fa di cui vi consiglio la lettura si intitola Non abbiamo ancora capito Julian Assange è molto lungo riassume un po' tutta la sua storia e anche le controverse attorno a lui però ve ne leggo alcuni estratti fin dall'inizio della sua carriera Assange è sempre stato un personaggio controverso anche a causa dei suoi caratteri poco accessibili sospettoso e a volte megalomane le sue idee di trasparenza assoluta e i suoi metodi non convenzionali nella gestione di segreti di materiale classificato negli anni gli attirarono grosse critiche ma almeno inizialmente l'opinione pubblica fu piuttosto concorde sul fatto che il suo lavoro fosse votato a svelare i segreti dei politici e governi più potenti e a rivelare scandali importanti di cui era giusto che il pubblico fosse a conoscenza le critiche contro Assange si infittirono con il Cable Gate perché il grosso della corrispondenza diplomatica americana non era scandaloso come i documenti sulle guerre medio orientali e perché Wikileaks gestì i documenti sensibili in maniera un po' maldestra ma le critiche divennero ancora più intense con la campagna elettorale per le elezioni del 2016 negli Stati Uniti e con i leak sul Partito Democratico fu quello il momento in cui agli occhi di molte persone la percezione di Wikileaks cambiò e la figura di Assange divenne estremamente polarizzante ben presto si capì che la fonte che forniva a Wikileaks il materiale sul Partito Democratico nel pieno della campagna elettorale erano Guccifer e gli hacker di Stato russi vi ricordate? Guccifer era il nome di uno degli hacker russi che intervenirono interferirono con quella campagna Guccifer agli occhi dei suoi detrattori Wikileaks si era di fatto resa complice di una campagna del regime russo per influenzare le elezioni degli Stati Uniti Assange ha sempre negato che la sua fonte fosse un'intelligence russa ma le prove del fatto che la fonte fosse proprio l'intelligence russa quindi gli hacker di Stato sono molto solide un giornalista The New Yorker che conosce Assange da anni e che nel 2017 scrisse un articolo su di lui le definì incontrovertibili quindi la grossa interferenza di Assange e di Wikileaks nelle elezioni americane del 2016 che terminarono con la vittoria di Donald Trump provocarono nuove divisioni nell'opinione pubblica e tra i suoi sostenitori conclude questo pezzo se si contano i 7 anni trascorsi rinchiuso nell'ambasciato dell'Ecuador e i 5 anni di carcere Assange non è in libertà da oltre 12 anni negli ultimi anni peraltro ha sofferto di una forte depressione e il suo stato di salute è rimasto precario anche per questo oggi c'è un certo consenso sul fatto che il trattamento che gli viene riservato sia ormai sproporzionato ora voglio passare totalmente ad altro per concludere con una news molto più veloce e leggera sono sul Guardian e c'è questo articolo intitolato le label musicali fanno causa ai song generator Suno e Udio per violazione di copyright sapete che con Suno o Udio potete andare a mettere un prompt e loro vi generano musica praticamente più o meno ascoltabile insomma in base al vostro prompt che poi rinchiude anche dei generi eccetera vabbè qual è l'accusa? lo potrete immaginare che come fanno a generare musica Udio e Suno beh hanno sucato tutto il materiale coperto da copyright delle grandi label musicali e poi sono tra l'altro anche accusati di rigurgitarlo sapete cosa vuol dire no? vuol dire che riescono a praticamente riprodurre quasi perfettamente pezzi musicali che sono evidentemente presenti nel loro database se si riesce a farglielo fare con un prompt curato ad arte ma insomma la Recording Industry Association of America quindi la RIA ha annunciato questa causa legale lunedì e ci sono dentro delle label come la Sony Music Entertainment Universal Music Group Recording e Warner Records un caso è nella Corte Federale di Boston contro Suno AI l'altro caso invece è a New York contro Uncharted Labs che sono quelli che hanno creato Udio AI la causa dice che Suno e Udio hanno rubato la musica e poi sono in grado di rigurgitare lavori molto simili a quelli degli artisti e la richiesta praticamente è di un pagamento di 150.000 dollari per ogni infrazione per ogni canzone prodotta ho trovato più dettagli anche su Ars Tecnica che dice che nella causa si fa riferimento anche a specifici esempi di brani generati dall'AI che ricreano elementi di canzoni molto ben conosciute si include My Girl dei Temptation All I Want For Christmas Is You di Marea Carey e I Got You di James Brown e poi c'è anche il modello che riesce a riprodurre la voce delle voci che assomigliano molto a quelle di artisti famosi come Michael Jackson e Bruce Springsteen e niente questa era la notizia quindi prendetela e mettetela nel backlog delle vostre news di gente che fa causa a AI o a modelli di AI perché si accorrono che gli hanno rubato i loro lavori e gli hanno inseriti nei modelli senza chiedere il permesso senza pagare nessun tipo di fee di licenza e l'articolo di Ars Tecnica si conclude proprio con una nota un po' amara con cui vi voglio lasciare le licenze per pagare l'allenamento delle AI possono rendere il training dei modelli economicamente insostenibili per le piccole start-up come Udio e Suno ma questo non impedirà alle grandi major di sviluppare eventualmente i loro propri modelli che generano musica con le AI permettendo quindi solo alle grandi corporation con grandi portafogli di controllare i tool che generano musica da qui al futuro aspetta prima di lasciarvi davvero come sempre due link che vi lascio nella descrizione dell'episodio il primo è per tutti voi amanti appassionati lavoratori con Drupal o Symfony insomma mondo PHP c'è un articolo pubblicato sul tech blog di Spark Fabric proprio ieri dal mio collega Luca Lusso un lavorone che si intitola Drupal Access Policy Demystified dove spiega appunto le nuove la nuova Drupal Access Policy che è stata appena introdotta in Drupal 10.3 e come vedete vi faccio vedere qualche estratto insomma è un articolo molto completo dove ci sono un sacco di estratti proprio di snippet di codice e anche un po' di screenshot dell'area di amministrazione insomma e qua trovate tutto quello che vi può interessare tutto quello che vi può servire per capire che cos'è Drupal Access Policy come funziona poi ci sono anche dei link per approfondire naturalmente anzi guardate che bella bibliografia che ha messo in fondo dove potete approfondire ancora di più questo tema insomma se vi interessa quindi fiondatevi sul blog di Sparfabric Drupal Access Policy Demistify è il primo link che vi do oggi il secondo link invece è una cagata si intitola Tetris Font e come dice il nome è praticamente un font dove ogni carattere è composto da blocchi di Tetris che tra l'altro sono animati scendono dall'alto fino a comporre il carattere stesso quindi poi voi gli date un testo e lui ve lo renderizza facendo cascare i blocchi dall'alto ma se non tolgo la mia faccia probabilmente non riuscite a vederlo eccolo qua ora vedete il font intero che compone questa parola se riuscite a decifrarla ecco scrivete perché io faccio fatica a capire che diavolo gli ho fatto scrivere comunque l'hanno creato Eric Demain e Martin Demain nel 2020 insomma qua è Tetris Font giusto così per passare 30 secondi in allegria e dopo aver passato anche questo buongiornissimo in allegria io vi ringrazio di avermi seguito vi ringrazio se volete seguirmi supportarmi scrivermi mandarmi dei cesti di Natale con del salame insomma vi ringrazio e noi ci vediamo a un prossimo episodio naturalmente vi ricordo che vi trovate su tutti i client di podcast del mondo ma se volete vedere il faccione sono su YouTube e anche su Spotify su Spotify trovate Buongiorno da Edo su YouTube invece il mio canale Edoardo Duzi insomma vabbè sapete come funziona bla 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 ci vediamo alla prossima ciao